Sono pronti a concludere in barca l'ennesima battuta di pesca di frodo nell'area marina protetta di Torre Guaceto, ma a far saltare i loro piani ci hanno pensato i militari della Guardia di Finanza. Alla vista delle forze dell'ordine, i pescatori hanno infatti tagliato la rete per darsi alla fuga. Da qui l'inseguimento che si è poi concluso con lo spiaggiamento della barca e la fuga a piedi dei due. Approdati a terra, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro il natante, la rete e il pescato, poi donato all'ente Caritas, contestualmente hanno avviato gli accertamenti necessari ad assicurare alla legge i due soggetti responsabili del reato.